Pietro, ma tu devi fare la serie su Totti? Te ne rendi conto, sì. Ma sai giocare al pallone almeno? Beh sì, un po' ci so giocare, anche se poi la serie è più sulla sua vita. Ma io ci sono? Temo di no. Ma se lo metti in bombe, guarda, ora ti racconto un po' di aneddoti. Ah bravo, raccontai qualche aneddoti. Ci facevo le partitine, mettiamo, avevo, non so, la palla, gliela potevo dare e non gliela davo. Facci roba, ah oh, ma che sei, bendato, ma che, non ci vedi? Ma te che lo conosci bene, dammi un consiglio, una dritta per... Guarda, se parli romano e ridi sa questo. Esatto. Camminare un po' così, capito? A dondolo, ah oh. Col culo, col culone. Cristian, grazie. Oh, bocca al lupo. Crepi. Oh, bocca al lupo. Oh, bocca al lupo.